Da dieci anni il Ryuken è sport ma anche attività nel sociale che investe nei giovani. Sì, il Ryuken è una realtà importante dello sport pavese, del nostro territorio. Quest'anno festeggia il decimo anniversario della fondazione. Noi come amministrazione comunale siamo al fianco di tutte queste realtà sportive che hanno anche un occhio importantissimo al sociale. Lo sport e il sociale sono due settori importanti. Il Ryuken è leader in questo ambito, ha allenato, ha raccolto, ha radunato centinaia e centinaia di bambini in dieci anni di storia e di attività e noi gli facciamo tanti auguri anche per il prossimo decennio. Quali sono gli appuntamenti per sabato 19 marzo, il decennale della fondazione? Buongiorno a tutti. L'appuntamento importante direi iniziamo alla mattina alle dieci e mezza nella sala conferenza del Broletto con la tavola rotonda. Di fatto è un incontro che il cui moderatore è Matteo Soragna, un caro amico, un grandissimo ecogiocatore e adesso telecronista di Sky con degli ospiti. Matteo Bonetti, un luminare della medicina. Charlie Recalcati, grandissimo emblema della pallacanestro italiana e Massimo Livieri che per RA è una figura decisamente importante nell'area della pallacanestro. L'argomento sarà chi fa sport ha già vinto nella vita, quindi si parlerà di basket, si parlerà di sport, si parlerà di come lo sport nelle proprie vite di questi personaggi qua ha rivestito un ruolo fondamentale nella loro crescita, nel loro lavoro. Il tutto continuerà poi nel Palatreves, in via Ravizza, dalle 15.30 con la vera festa di Ryuken dove ci sarà la torta, ci sarà lo spegnimento delle dieci candeline, ci sarà la sfilata di tutti i bambini, abbiamo il mago Simone che intratterrà i più piccoli di fatto con uno spettacolo di magia e un grandissimo evento penso per Pavia legato ai Ryuken saranno i Da Move, questi ragazzi amici che erano già venuti al secondo compleanno di Ryuken quando lo festeggiamo a Sizziano con il Basket Freestyle. In questa giornata abbiamo spazio chiaramente anche alla beneficenza, alla solidarietà, perché tutti quelli che parteciperanno e da una partecipazione gratuita in tutti gli eventi avranno la possibilità di fare delle donazioni a Casa Jerome per consentirci in qualche modo di recuperare dei soldi per comprare dei tablet che serviranno sicuramente a questa fondazione, a questa associazione. Io mi aspetto che ci sia grande partecipazione in tutta la cittadinanza perché oltre a essere i Ryuken radicata nel territorio e ha coinvolto e sta coinvolgendo tantissime famiglie, la stessa cittadinanza che magari è fuori dei Ryuken possa in qualche modo partecipare per festeggiare anche essa quella che vuol dire essere parte di una famiglia. Lo sport non è solo agonismo e divertimento ma anche uno strumento di educazione e una scuola di vita. Sì, assolutamente sì, ed è una scuola di vita e di insegnamento di valori. Da dieci anni nel mondo i Ryuken, nella nostra grande famiglia, cerchiamo di trasmettere questo a tutti i ragazzi. Se penso che i primi bambini iscritti alla scuola i Ryuken nel 2011-12 erano quelli nati nel 1998-97, adesso abbiamo dei bambini che sono nati nel 2015-17. Ecco, noi abbiamo il ruolo importante di essere al di là di allenatori palacanestro, che questa è la nostra formazione tecnica professionale, ma ci prendiamo anche la grande responsabilità di essere un piccolo mattoncino nella crescita di questi bambini. è per noi importante. Quindi non solo allenatori ma anche educatori. Assolutamente, questa è la missione di Ryuken e tutti i nostri allenatori devono chiaramente seguirla e comunque vogliamo seguirla. Quindi prima di tutto sicuramente questo, poi vorremmo costruire anche dei buoni giocatori e dei buoni atleti, indipendentemente poi dalla categoria che ognuno potrà raggiungere in base alle proprie capacità, a un po' di fortuna e a quello che si meriterà.